C'è un solo modo per conoscerlo. Punto F, attraverso Francesca R, a cura di VB, domanda Come facciamo a percepire ed ampliare il flusso energetico? Guida, c'è un solo modo per conoscerlo. Conoscervi maggiormente in questa realtà incarnativa. E' il grande segreto non segreto. Non potete arrivare qui e cercare di percepire il flusso energetico a cui normalmente non fate attenzione. Perché l'attenzione la potete prestare quando esiste un veicolo che vi permette di conoscere perfettamente l'altro. Se non avete questo, difficilmente riuscite ad abbattere il muro che non vi permette di sentire. Anche se potete fare un piccolo esercizio prima di andare dove dovete andare. Provate a stare 15 secondi nella famosa stanza. Provate a percepire l'energia. Dopodiché parlate tra voi di quello che avete percepito. E cominciate a sentirla veicolare tra di voi quell'energia. Vedete di farlo, ma dopo, perché stiamo preparando la stanza. Vedete di farlo. Vedete di farlo, ma dopo, perché stiamo preparando la stanza.